Vabbè non resisto a fare un'altra clip che devo mettere in video di domani, che ve ne sembra come sito? Solo che vorrei andare lì, però come faccio? Non ho supporto, dovrei mettere la GoPro sulla bici, se vado mi ammazza, aspetta va. No, è impossibile, ho fatto la discesa, vediamo se riesco così, troppo difficile con una mano, è tutto sassi, è rotta a slitta, aiuto, aiuto, no, no, non ce la posso fare a fare il video così, devo spegnere, vado vado là dai. Vabbè qua è stupendo, ma è troppo complesso. Però lì all'inizio c'era un posto, torno lì dai. Che bella è la GoPro che fa l'orizzonte dritto, che non è fisheye, e io ero rimasto la GoPro 3, è vero solo fisheye, dai la 9 spacca, è una bomba. Provo andare lì, provo. Ma che sito spettacolare che ho trovato. Andiamo a vedere, va esplorazione. Mar Mediterraneo. Da che te. Piazzola. Sembra una piazzola fatta apposta qua. Piazzola, piga col solberello che la tiene su. Piga com'è? Sei comoda? Secondo me è comoda dai. Dove la mettiamo la tenda, piga? Non lo so, qui, qui, lì, dove? Dove la mettiamo? Ovunque, lì, lì. Non lo so, non lo so, adesso ci penso, dai. Che figata. Dai, strano, bello, mi piace, mi piace, mi piace tanto. Benvenuta in idea, non so come si fa con la GoPro ma provo a fare il timelapse di come monto la tenda. Adesso ho messo solo il telo, vediamo. I like to party! Grazie a tutti. Vabbè avevo pensato di fare il solito voiceover con la musichetta fatta con la bocca e poi ho detto dai proviamo a mettere un po' di musiche qua che ci sono nell'app. Dai ci avrò messo 4 minuti in totale adesso vediamo come è avvenuto il timelapse. Non è perfetto il montaggio comunque con la sabbia i picchetti non tengono tanto però appunto questa lavora anche se i picchetti non sono perfettamente tirati. Qua infatti non è messa bene adesso magari volendo potrei sistemarla un attimo meglio però è lista dai è lista. Casetta, sacco a pelo, materassino, zaino dove tengo tutte le cose importanti e basta che dire. Mi sembra uno dei siti più belli dove ho dormito. Non vorrei che magari con l'altamaria mi arrivino gli schizzi. Vabbè vediamo e lo scopriremo stanotte ve lo dirò domani. Dai ciao!